Pratiche commerciali scorrette da parte delle compagnie energetiche, pericolo truffe. Feder Consumatori Parma va all'attacco. Nel mirino dell'associazione ci sono infatti le attività telefoniche messe in atto da diverse società per indurre gli utenti a cambiare gestore. La richiesta di informazioni, osserva in una nota Feder Consumatori Parma, palesemente inutile se davvero si trattasse della società con cui si è stipulato il contratto, che questi dati già li possiede, è mirata soprattutto a farsi fornire dal consumatore il POD, che identifica il contatore dell'energia elettrica, e il PDR, che identifica il contatore del gas, dato fondamentale per il cambio di contratto. Invogliato e subdolamente attratto dal ventilato risparmio, in realtà, sostiene Feder Consumatori, l'utente è inavvertitamente indotto a stipulare un contratto che comporta il cambio di operatore. Coloro che si sono accorti per tempo di questa truffe hanno chiesto l'annullamento del contratto, nelle modalità previste per legge, ossia 14 giorni, hanno comunque riscontrato difficoltà a rientrare con il vecchio gestore, per cui occorre fare molta attenzione. Le registrazioni delle telefonate richieste risultano infatti manipolate da taglie. Feder Consumatori desidera quindi allertare i cittadini affinché prestino la massima attenzione a situazioni di questo genere. Tramite Feder Consumatori nazionale si è provveduto ad informare l'antitrust ormai sommersa di reclami. È necessario a questo punto, auspica l'associazione, un giro di vite sui contratti stipulati al telefono, fonti di truffe oltre che disturbo molesto senza vantaggi per i consumatori.